Potrebbe essere un leopardo nero, il grosso felino avvistato la settimana scorsa sui cogliostunesi da Giuseppe e Maura, imbattutisi in quella che hanno subito pensato essere una pantera. Da un primo sopralluogo la polizia è effettivamente rinvenuto sul terreno impronta riconducibile a un grosso felino. Le ricerche successive non hanno però dato riscontro, sebbene in zona siano stati poi ritrovati alcuni cani sbranati. Nel frattempo i ragazzi sono entrati in contatto con un allevatore di grandi felini di Mestre, che sulla scorta della descrizione fatta dalla coppia si dice certo che si trattasse di un leopardo. Giuseppe nel vedere gli animali ha riconosciuto nella taglia di una femmina l'animale che eventualmente lui ha avvistato. La pantera nera altro non è che un leopardo melanico oppure un giaguaro melanico. Quindi con Giuseppe in videochiamata mi ha fatto capire che secondo lui è più una femmina, quindi in questo caso un animale come Maggie, questa che vedete qui in questo momento. L'uomo tra l'altro laddove autorizzato dalle autorità preposte si è detto pronto con il suo staff a venire in Puglia per catturare l'animale. Qualora le autorità competenti lo riteressero necessario, noi siamo disponibili a partecipare a eventuali azioni di cattura portando quella che è la nostra esperienza e di gestori del parco e di addestratori di animali. Grazie.